Stavate, Doloroso. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sikar. Vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, Come mai, tu che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove dunque prendi quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci riede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, Va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, Io non ho marito. Le dice Gesù, Hai detto bene, Io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando Egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, Sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i Suoi discepoli. Essi meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse Che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano Rabbi, mangia! Ma Egli rispose loro Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro Qualcuno li ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse Ancora quattro mesi E poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico Alzate i vostri occhi E guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario E raccoglie frutto per la vita eterna Perché chi semina Giuisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio Uno semina e l'altro miete Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica Molti samaritani di quella città Credettero in lui per la parola della donna Che testimoniava Mi ha detto tutto quello che ho fatto E quando i samaritani giunsero da lui Lo pregavano di rimanere da loro Ed egli rimase là due giorni Molti di più credettero per la sua parola E alla donna dicevano Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo Ma perché noi stessi abbiamo udito E sappiamo che questo è veramente il salvatore del mondo Faccia bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva Seconda domenica di quaresima Secondo il rito ambrosiano E ci viene presentata la figura della samaritana È un magelo molto ricco Che si addice a riflessioni e considerazioni Approfondimenti notevoli Anche per il nostro cammino cuaresimale E per la nostra vita di fede Il nostro cammino di fede in senso generale Questa donna che ha avuto cinque mariti Va al pozzo a tingere acqua È indispensabile L'acqua serve per vivere E Gesù chiede da bere a questa donna Perché si ritrova al pozzo affaticato e stanco La donna si meraviglia Come mai tu che sei giudeo Chiedi da bere a me? E Gesù inizia un approccio Un discorso Le fa capire che c'è qualche cosa d'altro Rispetto all'acqua Che serve per dissetare la sete Una sete umana Una sete corporale Se tu conoscessi il dono di Dio Ti darebbe un'acqua Zampillante per la vita eterna Gesù introduce un termine Quello dell'eternità La samaritana si stupisce Si scarnisce Poi sembra essere così Un po' sbigottita Dal modo con cui Gesù approccia Si presenta E parla a questa donna Un po' lo prende anche in giro Ma non c'è neanche un'anfora Un recipiente E vieni a propormi E a donarmi un'acqua Di cui non capisce bene Il senso di quest'acqua Ma cos'è quest'acqua che zampilla per la vita eterna Insomma il discorso Il dialogo tra Gesù e la samaritana Procede increscendo Lentamente La donna È portata a capire Che si trova di fronte al Messia Sono io Sono io Gesù le fa capire Che questa sua ricerca di felicità Questo suo attingere acqua Questo suo desiderio Di un qualche cosa Che dia senso alla sua vita Cinque mariti E adesso assieme Ad un altro che non è suo marito Cioè è una persona Alla ricerca di un qualche cosa Che possa riempire la sua esistenza Gesù le fa capire Che adesso si trova di fronte A lui Al Messia A colui che comunica Dio Che rivela Dio Che può veramente Profondamente Dissetarla Dare senso e significato Alla sua esistenza Che cosa fa? Corre indietro Non si preoccupa più Dell'acqua che deve attingere Lascia lì l'anfora E fa gridare A tutti quanti Ma ho incontrato il Messia Che sia lui il Messia Mi ha dato tutto quello che ho fatto Un po' di dubbio Questa donna ce l'ha Che sia lui il Messia Non è una credulona È uno che è abituato a ragionare A stare con i piedi per terra Forse è lui il Messia Io non so discernere Però mi ha detto tutto quello che ho fatto Poi i samaritani Si recono da Gesù E credono Aderiscono Alla parola Del maestro Del signore Perché hanno avuto Un'esperienza diretta Non più sulla parola Della samaritana Ma sull'incontro Personale Con Gesù Messia Salvatore Ecco che cosa E quale significato Può avere per noi Questo brano del Vangelo Questo incontro Fondamentalmente Anche noi siamo alla ricerca Anche noi Siamo molto contenti Noi divaghiamo Un marito Cinque mariti Ci sono degli ambiti Della vita terrena Che ci affascinano Che Illudiamo Ci illudiamo Che possono Riempire Il nostro desiderio Di infinito Di eternità Ma non è così E allora Dobbiamo fare Rifare L'esperienza Di un incontro Con quel Gesù Che magari È sepolto Dentro la nostra storia Dentro la nostra vita Che ha bisogno Questo incontro Che Che si è verificato Magari Tanti anni fa E che è rimasto lì Come un fuoco Sotto la cenere Ha bisogno Questa esperienza Questo incontro Di Gesù Di essere Vivificato Di incontrare Sempre Gesù Che ti dà Ti dà senso Pienezza Il tuo esistere Che ti dà La vita Eterna Ecco Questo è uno Delle ricadute Significative Che questo episodio Può avere Nel nostro cammino Di fede Nel nostro cammino Quaresimale La Quaresima È un percorso Che dovrebbe Prepararci A gustare E a rivivere Il mistero Della morte E risurrezione Della morte E risurrezione Di Gesù Che però è anche Morte E risurrezione Nostra A noi tutti Lasciarci Avvolgere Coinvolgere Da questa parola Di Dio Questa parola Di Gesù Che disseta Profondamente Il nostro essere La nostra storia Pace bene Amici E buona domenica A tutti E buona domenica Anche